Circa 650 progetti di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale finanziati in 85 paesi con oltre 19 milioni di euro e quasi 4 milioni e mezzo di euro per poco meno di 250 progetti di promozione dei dritti umani e della cultura di pace sul territorio Veneto. Sono queste le cifre di 10 anni della legge della Regione del Veneto in materia di dritti umani, protagonista della quarta conferenza regionale per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale, i dritti umani e la cultura di pace aperta a Treviso dall'assessore regionale Isi Coppola. L'assessore ha sottolineato che questa legge in un decennio ha consentito di ottenere risultati straordinari grazie ai quali il Veneto ha fatto scuola a livello nazionale ed è Regione capofila in questa materia per il riconoscimento del Ministero degli Esteri, risultati ottenuti grazie soprattutto allo spirito di solidarietà che è proprio del DNA dei Veneti. Siamo la Regione che ha il maggior numero di situazioni di volontariato, questo noi non lo possiamo dimenticare, quando si parla di cooperazione dei diritti umani perché vuol dire che abbiamo un tessuto straordinariamente ricco da cui valorizzare appunto le capacità, le conoscenze. Particolare attenzione ai progetti di Slow Food che si propongono di tutelare la biodiversità in diverse parti del mondo. La sfida dell'associazione adesso è quella di sostenere l'agricoltura e aumentare la sostenibilità delle coltivazioni. La terza rivoluzione industriale è quella dell'energia pulita, l'energia pulita fortunatamente concede l'opportunità di avere realtà produttive di piccola scala e le nostre campagne hanno in mano questa opportunità.